Come sono le ricerche? Negli ultimi anni le ricerche evidenziano una crescita davvero significativa della sensibilità ambientale dei cittadini. Tutte le ricerche lo confermono, sia a livello internazionale, l'Eurobarometro, sia alle ricerche che realizziamo proprio in Italia. E questo si traduce nella consapevolezza che il cittadino può, attraverso i suoi comportamenti quotidiani, contribuire al miglioramento complessivo dell'ambiente. C'è una grossa enfasi posta anche sul futuro del pianeta e molto spesso questo avviene in concomitanza con la nascita dei figli e quindi con l'idea del futuro delle generazioni. E questo è un primo elemento. In che cosa si traduce? Si traduce per esempio in due o tre elementi molto significativi. Il primo, la raccolta differenziata. Io ricordo vent'anni fa, quando fu introdotto il decreto Ronchi, che appunto stabiliva la differenziazione per materiale, che i cittadini avevano reagito non benissimo. C'era una piccola parte, forse un po' più ideologica, che era favorevole all'ambiente, ma gli altri lo vivevano con un fastidio. E tutti indistintamente dicevano, costoro, ma poi alla fine in discarica mischiano ancora tutto, perché chiedono a noi. E vivevano questo provvedimento come vessatorio. Nel corso dei vent'anni che abbiamo vissuto è cambiato tutto. Lo misuriamo con le ricerche, vediamo la percentuale delle persone, delle famiglie, che differenziano per diversi tipi di materiale. E tutto ciò viene fiuso sì come un piccolo fastidio, o un grande fastidio, ma è anche un contributo che si dà al miglioramento dell'ambiente. E poi ancora c'è un atteggiamento di maggiore favore per i prodotti delle aziende che sono, come dire, rispettose dell'ambiente. Si parla spesso di sostenibilità ambientale e di responsabilità sociale delle aziende, che si declina prevalentemente sul tema ambientale e sul tema occupazionale, grosso modo. Quindi secondo elemento importante. Terzo aspetto importante, c'è una maggiore disponibilità appunto a non soltanto spendere di più, ma ad avere una considerazione diversa rispetto a queste aziende. E quindi anche dal punto di vista reputazionale ritroviamo degli aspetti molto interessanti. Ebbene, tutto ciò ha avuto un'accelerazione con il conclamarsi della crisi. È una crisi che ci ha indotto a cambiare profondamente anche i nostri paradigmi di consumo. E in sintesi, la cosiddetta sharing economy, per esempio, l'economia della condivisione, è stata sì indotta per certi versi dalla situazione di maggiore difficoltà economica, però ha in sé un portato valoriale molto importante. Non sono più fenomeni di nicchia. Parlare di sharing economy, parlare di economia circolare, oggi significa parlare di argomenti che non riguardano solo una piccola percentuale di popolazione, ma incominciano ad essere più diffusi e più condivisi. Grazie a tutti.